Gli audiolibri al giorno d'oggi sono ancora una nicchia, ma neanche poi tanto, e se ci pensate, se allarghiamo un pochettino il campo, i podcast sono in crescita, i video su YouTube o su altre piattaforme, cominciamo ad ascoltarli più di guardarli. E insomma, il mondo dell'audio in generale sta diventando sempre più centrale, sempre più protagonista dell'esperienza formativa di ognuno di noi, dell'esperienza di studio, di ascolto, di apprendimento e anche di svago e social. Ma una domanda resta. Per lo studio, lo studio vero, per gli studenti o per chi deve fare della formazione seria, l'ascolto e l'audio da solo, senza un supporto visivo, può essere una forma efficace ed efficiente? Bella domanda. E allora, visto che ho ricevuto diverse richieste in merito negli scorsi mesi, oggi parliamo proprio di questo e cerchiamo di capire insieme se audiolibri, audioregistrazioni, audiopod, audio tutto, possano essere sfruttati per studiare. Oggi cerchiamo di farci una puntata del nostro ADC 4.0 rapida, veloce, dritta al punto. Voi per premiare questo mio sforzo di sintesi lasciate subito un mi piace, iscrivetevi al canale che circa il 60% di voi che guardate non è iscritto, maledetti, e poi se non volete perdervi neanche un aggiornamento, cliccate e suonate la campanella così vi arrivano le notifiche. In ogni caso, che cosa intendiamo con audiolibro? Beh, la definizione di per sé è molto semplice, è un libro che viene letto o recitato e quindi trasformato in un prodotto audio, un prodotto che si può ascoltare invece che leggerlo alla vecchia maniera. Ai fini di quello che dobbiamo capire noi, in realtà potremmo dire che tutti i ragionamenti che valgono per un audiolibro e quindi per un testo che è stato convertito in un audio, valgono in realtà anche per un podcast per esempio, oppure una registrazione, in ogni caso è indifferente quale sia l'origine della fonte di informazioni. Nel momento in cui viene trasformata in un audio, noi dobbiamo capire se possiamo sfruttarla oppure no. E tra l'altro, come dicevamo all'inizio, il trend è sempre di più quello di ascoltare i video invece di guardarli e quindi gli stessi ragionamenti si possono estendere in qualche modo anche ai prodotti audiovisivi. E voi sappiate che ogni volta che ascoltate il mio video invece che guardarlo, da qualche parte un Dario soffre. Partiamo dai vantaggi. Gli audiolibri e i podcast sono incredibilmente flessibili, versatili e portatili, ancora di più dei video, perché uno può tenerli in background mentre fa qualcos'altro, può ascoltare mentre fa una passeggiata, mentre guida la macchina, io ascolto un sacco quando guido, ma anche quando fa allenamento fisico, quando svolge le faccende di casa, quando lava i piatti, in qualunque momento in cui siamo occupati in qualcos'altro possiamo ascoltare, mentre invece un video vero e proprio, una video lezione, un videocorso o qualcosa del genere, ci tiene più occupati. Abbiamo bisogno di uno schermo, di una posizione buona per ascoltare, per guardare, insomma richiede un pochettino più di preparazione e un aspetto di ambiente più spinto. Un altro grande vantaggio dei prodotti che nascono in audio o che vengono convertiti in audio è che spesso viene curata molto di più la cosiddetta delivery, cioè la esposizione. Spesso gli attori o gli speaker sono esperti o sono degli attori o sono degli speaker radiofonici o comunque persone che lavorano con la voce e quindi questo rende il tutto più interessante e coinvolgente rispetto alla lezione media dell'insegnante o alla lettura di un libro che è ovviamente piatta. E per di più ci sono delle app molto comode per l'utilizzo e per l'ascolto dei prodotti audio, dei podcast, degli audiolibri e questo rende l'esperienza di ascolto e fruizione ancora più immediata, ancora più semplice, ancora più efficiente. Quanto ai contenuti? Beh quelli dipendono, non si può certo generalizzare e non dipendono dalla forma, non dipendono dal fatto che sia un audio o un testo o un video, ma dipende da chi li ha preparati, dalla fonte di partenza da cui li si è estratti, in ogni caso da tutto quello che è il processo produttivo e di scrittura o preparazione della fonte, come del resto per qualsiasi altra cosa. Quindi non possiamo dire che di per sé gli audiolibri o i podcast o le registrazioni audio siano meglio né che siano peggio di qualunque altra fonte. Ma quali sono i difetti, i problemi dell'ascolto di podcast, audiolibri, prodotti audio per lo studio, la formazione, l'apprendimento? Ce ne sono diversi, ma il primo, il più importante, quello più evidente a tutti e lo avete sicuramente sperimentato, è l'ascolto passivo e distratto. Ora, l'ascolto passivo e distratto in realtà è una costante, è una costante a lezione, a scuola, all'università, ai convegni, sempre e comunque, e ne abbiamo parlato anche quando vi ho raccontato di come si impara da un video o da un videocorso. Andate a recuperarvi quel video perché era interessante. Ma a maggior ragione, in un ascolto che è privo di un aspetto visivo, che è privo di un aspetto di coinvolgimento indiretta, che non è fisicamente intrattenente o comunque che non richiede la nostra partecipazione attiva, vera e propria, questo effetto aumenta a dismisura. Avete presente quando a lezione vi distraete, pensate ad altro, entra da una parte, esce dall'altra quello che dice l'insegnante? Ecco, quando stiamo ascoltando un prodotto come un podcast o un audiolibro, questo effetto aumenta esponenzialmente. Questo perché appunto siamo meno coinvolti e spesso lo ascoltiamo anche senza creare degli appunti, senza fare qualche cosa che ci tenga veramente concentrati. E questo si collega con il secondo problema, che questo tipo di fruizione, la fruizione esclusivamente audio, purtroppo porta molto spesso al concetto di multitasking. E anche di multitasking e del rischio che il multitasking porta con sé, ne abbiamo parlato infinite volte. Il multitasking è completamente incompatibile con qualunque attività di alto livello cognitiva che abbia a che fare con il ragionamento e l'apprendimento. Certo si può fare multitasking quando per esempio si ascolta la radio con le orecchie e si guida in maniera attenta, ma al tempo stesso voglio dire con dei gesti automatizzati che facciamo continuamente tutti i giorni. Ma non si può fare in multitasking un esercizio di matematica e nel frattempo lavare i piatti, così come non si può ascoltare una lezione importante da cui dobbiamo trarre delle informazioni e al tempo stesso fare pesistica. Questo non succede. E infatti se siete onesti con voi stessi e vi guardate un attimo allo specchio, quando ascoltate i podcast distratti in macchina oppure nella vostra vita di tutti i giorni o quando ascoltate un audiolibro, non lo state davvero ascoltando con la stessa intensità, con la stessa intenzionalità, con la stessa immersione che avreste se quella fosse una lezione che poi non tornerà mai più e da cui dovete assolutamente acchiappare tutte le informazioni necessarie per poi passarvi il vostro esame, la vostra verifica, interrogazione, test, concorso, quello che è. E questa purtroppo è una verità inconfutabile. Quindi molto spesso si ascolta peggio. L'altro grande problema, l'altra grande mancanza dell'ascolto di audiolibri e podcast che ne rovina un pochettino la fruizione per lo studio è l'impossibilità di sfruttare tutta una serie di meccanismi che invece sono presenti nella lettura efficace. In particolare non si può sottolineare, non si possono prendere note, non si può fare un'analisi preliminare, un'analisi del paratesto, uno skimming, perché l'audio comincia e va avanti fino alla fine. Non possiamo saltare da un pezzo all'altro, anticipare, individuare delle parole o delle porzioni di testo ed evidenziarle. Non possiamo trasformarlo in uno schema così facilmente. Quindi comincia in qualche modo a impastarsi tutto il processo di acquisizione delle informazioni. Non solo, ma tornare indietro e riascoltare perde molto più tempo ed è molto più difficile rispetto a per esempio semplicemente tornare indietro di una riga e rileggerla se non abbiamo capito bene quello che c'era scritto. E quindi il supporto fisico in questo caso rispetto a quello sonoro che insomma va in giro per l'aria in qualche modo è un aiuto perché permette agli studenti una più facile fruizione delle informazioni e una più facile gestione di quelle informazioni. Quindi questo anche qui è un limite importante dell'utilizzo di questi mezzi. Per quanto riguarda l'applicazione di tutte le fasi, di tutte le tecniche del metodo di studio, lo abbiamo appena capito, lo abbiamo appena detto, senza alcun dubbio la lettura efficace intesa solitamente come la applichiamo su un libro vero e proprio, non si può certo applicare ad un audiolibro, non si può fare una trasposizione uno a uno di quello che facevamo di fronte al manuale ascoltando invece qualcuno che parla perché non è la stessa cosa. E al tempo stesso non possiamo certo usare un file audio come fonte principale del nostro studio, altrimenti saremmo costretti per forza di cose a abdicare completamente all'idea di uno studio efficace, la costruzione di uno schema, il testing e tutto il resto è fissarci sul riascolto totale. Invece che leggi e ripeti, finiamo per fare ascolta e ripeti, ma ancora una volta i tempi si dilatano, diventa molto più pesante, molto più lungo, molto più palloso, molto più inefficiente. Ma allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci podcast e audiolibri sono inutilizzabili quando si parla di studio, apprendimento e formazione? Non proprio. Possiamo fare una cosa. Possiamo trattare l'audiolibro o il podcast o la fonte audio che stiamo ascoltando come se fosse una lezione vera e propria. E dunque, invece che applicare tutte le metodologie che non possiamo applicare relative alla lettura, invece che trattare l'audiolibro come una trasposizione del libro vero e proprio, possiamo invece applicare le metodologie, le pratiche e gli atteggiamenti che applicheremmo con gli appunti, con il seguire una lezione asincrona digitale, come quella che è un videocorso, come la registrazione di una lezione. Ecco, allora sì che forse ci avviciniamo a qualcosa di interessante. Non c'è la parte visiva? D'accordo, ma possiamo comunque ascoltare e segnarci le informazioni più interessanti. Possiamo utilizzare il metodo Cornell. Possiamo, in qualche modo, creare degli appunti a partire dall'ascolto di questo benedetto audiolibro o podcast e simulare una lezione vera e propria. E attenzione, questo non significa trascrivere o sbobinare l'audiolibro, eh? Sia chiaro, mai fare le sbobine. Ma significa invece che crearsi delle domande, mantenere l'attenzione, applicare il KVL, il Cornell che nominavo un secondo fa e tutto il resto, quello sì, quello può funzionare. E prometto che torneremo presto sul tema degli appunti, che me lo state chiedendo un sacco ed è da un po' che non ci faccio un video sopra. E arriviamo così ad una conclusione. Gli audiolibri, i podcast, l'ascolto mentre si fa altro di un video, possono andare bene solo per romanzi, narrativa, intrattenimento oppure per un'informazione superficiale, un'infarinatura, un inizio per interessarsi di un argomento o per informarsi in maniera generica. Quello che è l'equivalente dello skimming nella lettura. Una fase esplorativa. Purtroppo però non può andare bene per lo studio vero e proprio. Studiare dagli audiolibri o dai podcast tuttavia si può volendo, ma a quel punto vanno trattati come se fossero delle lezioni e vanno applicate tutte le metodologie che si applicano già per la creazione di appunti. Insomma, ascoltare un audiolibro, ascoltare un podcast, è un po' come andare a lezione. Considerate queste fonti quindi come integrative, come qualche cosa che potete aggiungere al vostro studio per aumentarne la qualità, ma che certo non potrà sostituire quelle che sono le vostre fonti primarie che usate tutti i giorni. E voi che cosa ne pensate? Oltre ai romanzi, ascoltate audiolibri, podcast e cose del genere anche per la formazione e lo studio, come vi trovate? Raccontatevelo qui sotto. Avete mai pensato di sfruttarli per l'università, per esempio? Sono curioso di sapere come la pensate e se volete portare il vostro metodo di studio al massimo livello possibile, audiolibri o non audiolibri, quello che vi serve è Sistema ADC, il mio videocorso completo di metodo di studio in tre versioni per gli studenti universitari full time, studenti lavoratori, per chi prepara dei concorsi con tutti i moduli, i pacchetti del caso, trovate i link qui sotto. Insomma, se volete qualità, completezza, scientificità, sapete dove andare. La fortezza dello studio vi sta aspettando. Io sono Alessandro De Concini e questo era ADC 4.0. Vi parlo tutti i giorni di apprendimento, metodo di studio, cognizione, cultura e produttività su tutti i canali social. Noi ci vediamo nel prossimo video, anzi ci riascoltiamo. Grazie a tutti.